Buongiorno a tutti. Da oggi fino alle ore 12 del giorno 9 aprile i cittadini residenti nel comune di Bucine porranno presentare la domanda per fare richiesta dei buoni spesa per l'acquisto dei beni di prima necessità. Il modulo è scaricabile dal sito del comune e la domanda va presentata per email. Chi avesse difficoltà a reperire il modulo o a presentare la domanda può comunque contattare i numeri dei servizi sociali e li aiuteranno in questa operazione. Successivamente alla presentazione della domanda i richiedenti saranno contattati da servizi sociali per acquisire tutte le domande e gli elementi, per esempio anche il fatto se uno è rimasto disoccupato recentemente o è in cassa integrazione o è comunque positivo e in quarantena obbligatoria, cioè verranno acquisiti tutti gli elementi per individuare poi gli aventi diritto di questi buoni. I buoni saranno spendibili presso i negozi sempre del territorio comunale e comunque anche di tutto l'Evano e di tutto mercatale per tutti i negozi che daranno la disponibilità ad accettare questi buoni. quindi anche per le attività commerciali c'è un modulo che va presentato entro il 6 di aprile alle 12 nei quali appunto i commercianti manifestano la propria disponibilità ad accettare in pagamento questi buoni comunali.